Piccolo disclaimer prima di iniziare il video, se volete preservare il vostro portafoglio stoppate immediatamente il video e chiudetelo perché oggi vi mostrerò ben 5 gadget utilissimi e fighi che ho trovato su Amazon a meno di 30€. Non mi perderei troppo in chiacchiere e inizierei già con il primo gadget che vi mostrerò adesso. Al quinto posto abbiamo la pinza multifunzione e cosa c'è all'interno? C'è questa piccola confezione e troviamo degli adattatori e ovviamente la pinza. La pinza come funzione si apre in questo modo e possiamo utilizzarla come una normale pinza. Qui possiamo anche tagliare i vari filetti, ad esempio vogliamo tagliare un cavo elettrico, possiamo farlo tranquillamente oppure per spellarlo. Abbiamo poi tutte le lame qui sotto e possiamo ben applicarlo in 24 utilizzi diversi. Possiamo usarlo come righello, come lima unghie, come apri bottiglie, ci sono anche diverse lame affilate che possiamo utilizzare per tagliare, fare qualsiasi cosa. All'interno della pinza c'è anche questo meraviglioso kit di viti che ci permette di svitare qualsiasi cosa, sia con punta piatta, sia con punta stella, sia con punta fine. Basterà collegarli alla pinza e potremo svitare quello che noi vogliamo. Riusciamo a fare praticamente qualsiasi cosa e secondo me questa pinza bisogna assolutamente averla. Il quarto gadget è stupido ma geniale, serve per il nostro gabinetto. Sicuramente qualcuno di voi l'ha visto in qualche pubblicità di Facebook e si tratta di un gadget molto utile. Per quale motivo? Sicuramente almeno una volta nella vostra vita vi è capitato di svegliarvi di notte e di dover andare in bagno. Accendere la luce però in piena notte è un trauma soprattutto se vi siete svegliati un po' così e così. Questo gadget ci viene incontro perché ci permette di evitare di accenderla ma di centrare comunque il buco. Nella confezione abbiamo già un'anteprima del gadget e possiamo avere fino a 8 colorazioni essendo il led RGB. Dentro la confezione troviamo il nostro gadget e le istruzioni che ci spiegano un po' il suo funzionamento che mettiamo da parte in quanto è molto semplice. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente mettere qui dietro delle batterie, volendo potete mettere quelle di Amazon Basic che sono ricaricabili. Avete questo pezzo di plastica che è flessibile quindi potete agganciarlo sotto il coperchio del gabinetto. Qui c'è il led e qui c'è il sensore che rileva il movimento. Quando voi passate si accende il led e vi illumina il gabinetto. Tramite questo tasto possiamo programmare come deve funzionare il led e vediamo la funzione. Voi vi avvicinate di notte, il sensore vi rileva, attiva la luce e non potete più sbagliarvi così non rimanete sparaflesciati dalla luce. Vedete io adesso mi muovo, si riaccende, è fantastico. Al terzo posto ho per voi un gadget che può essere utilissimo per qualche regalo così veloce che costa sotto i 10 euro. Si tratta di una penna ma non di una comunissima penna in quanto è multifunzione. Ha diverse cose che vi faccio vedere adesso. Chi ha realizzato questa penna è un genio, arriva già in una specie di confezione regalo e vi faccio vedere il contenuto. All'interno ovviamente c'è la penna, questo qui lo possiamo rimuovere. Vediamo tra poco il suo funzionamento e dentro ci sono pure tre ricariche di inchiostro nero che potete sostituire alla penna in modo tale che una volta finisce non dovete buttarla. Ci sono comunque le ricariche. L'ho trovata su Amazon sotto i 10 euro e il suo funzionamento è molto basic. Abbiamo qui questa punta che se girata fa uscire la punta della sfera e possiamo scrivere sul nostro foglio. È una sfera ad inchiostro che non richiede di essere troppo calcata quindi se avete il polso sensibile non preoccupatevi. Come altra funzionalità ha qui un centimetro, penso abbiate già visto, ha diversi centimetri in diverse scale e potete sfruttarlo per fare delle linee rette con un'altra penna. Avete un'altra penna, avete bisogno di un righello così immediato potete sfruttare questa penna. La sostituzione dell'inchiostro potete farlo tirando questo accessorio e dopo lo rinfilate e la penna è già subito pronta. Nella parte superiore c'è un gommino capacitivo che ci permette di utilizzare il nostro smartphone tablet e risulta molto comodo. Di solito questi pennini costano un sacco mentre in questa penna è già incluso. Se continuate a girarla troverete anche una livella, vedete questa qui verde, che vi permette di capire quando un piano è a livello o se è inclinato. Se svitate questo tappino qui, sotto troverete anche un mini cacciavite che serve per svitare piccole cose, per esempio il gancio qui di uno smartwatch. Vi faccio vedere che se tirate troverete anche l'altro cacciavite, il mini cacciavite piatto e questo può essere utile in diverse occasioni. Al secondo posto ho posizionato questo gadget che vi nascondo per un attimo perché vi voglio far vedere la confezione da vicino. Si avvicina la primavera, inizia a far caldo e cosa possiamo prendere per colmare questo caldino? Basta una ventola, un mini ventilatore che potete vedere è anche di ottima qualità, tutto in metallo, flessibile, ma cosa di speciale questo gadget per essere finito nella seconda posizione di questa classifica? Premetto che costa meno di 15 euro e adesso vi faccio vedere cosa di incredibile. Immaginatevi di essere in ufficio, tutti abbiamo un computer o comunque un power bank e colleghiamo questo mini ventilatore alla porta usb del pc e fin qui tutto normale. Vedete la ventola è ancora spenta e io posso regolarla come voglio. Come faccio ad accenderla? Qui dietro c'è un tasto, l'accendo e guardate cosa fa tra poco. Si state vedendo quello che sto vedendo io, è o non è una figata? È o non è una figata? Regolo la ventola bene un attimo, ecco. Così si vede un po' di più e abbiamo un vero e proprio orologio su una ventola, è fantastico. Non so come faccia a riprodurre i led in modo così preciso. Ho abbassato un po' l'ISO della fotocamera così vedete meglio l'effetto e che dire, è una meraviglia dell'ingegneria perché possiamo regolare l'orario tramite questo tasto laterale che è lo stesso tasto anche che utilizzate per accendere e spegnere la ventola. Voi lo posizionate lì nella porta usb del computer, nella porta usb del power bank e la ventola a parte. Parlando di aria, beh fa una certa arietta, sicuramente vi rinfresca un po' e se lo acquisterete sicuramente sarete invidiati da colleghi, amici, parenti, tutti lavoreranno. Secondo me rientra nei miei gadget top comprati in questo 2019. Nonne, mamme, zie, podi ha pensato pure per voi perché ho trovato un gadget che costava sotto i 30 euro e serve per la cucina. Questo gadget è strautile, pensavo fosse una cinesata ma in realtà ho visto che funziona anche una meraviglia e adesso vi faccio vedere di che cosa si tratta. Come potete vedere dall'immagine si tratta di uno sbucciatore, non so come chiamarlo, non ho mai sentito il nome di questo attrezzo e vi faccio vedere subito cosa c'è dentro la confezione. Lo strumento che vi permette di sbucciare qualsiasi cosa senza che voi dobbiate fare niente serve per sbucciare arance, mele, patate, qualsiasi cosa che sia piuttosto tondo. Il funzionamento è semplicissimo, qui abbiamo questa base dove dobbiamo infilzare la nostra frutta o verdura. Prendiamo ad esempio questa arancia, la infilzo, cerchiamo di essere precisi al centro più o meno, ok? Poi abbassate la lama e appoggiatela, che dire, qui sopra, ok? Dopo si abbasserà in automatico. Qui sopra abbiamo l'altra plastica che possiamo utilizzare per infilzare la nostra verdura o frutta. In questo modo la verdura o la frutta rimane fissa e quello che dobbiamo fare sarà accendere lo strumento. Prima di accenderlo vi faccio vedere una cosa. Abbiamo qui questo strumento che serve per spilare, per pulire. Abbiamo qui sotto delle lame sostitutive. Vedete? Si apre questo sportello e escono quelle due lame. E abbiamo la possibilità di utilizzare lo strumento in modo portatile, inserendo qui le batterie. Oppure possiamo collegare l'alimentatore che è presente all'interno della confezione. Alimentazione collegata, basta premere il tasto qui e guardiamo il risultato. Inizia a girare e voilà! Inizia a sbucciare la nostra arancia, la nostra mela, qualsiasi cosa essa sia e stare qui a guardarlo per ore. Bellissimo! Ovviamente la parte sopra non l'ha fatta bene perché molto probabilmente non l'ho posizionato correttamente. Comunque per lo più è stato sbucciato. Una volta finito possiamo togliere la frutta e togliamo dalla lama il risultato. Guardate questo qui lo potete utilizzare per fare le torte, mi pare. Comunque le nonne sanno bene come sfruttare il tutto. Magari adesso ci riprovo con un altro frutto, ad esempio la mela. Dai partiamo e vediamo il risultato. E via anche la mela ha iniziato a tagliarla. Per la mela è un po' più veloce perché la buccia è più leggera possiamo dire, meno dura. E anche la mela è sbucciata così. Tagliare e darla direttamente al mio coniglio senza doverla sbucciare tutta. Ed ecco qui il risultato finale. Potete sfruttare la buccia per fare qualche dolce, qualche torta. E la cosa interessante di questo accessorio è che costa meno di 30 euro. Mi pare di averlo pagato sui 25 euro circa. E trovate il link qui sotto in descrizione. Sono o non sono dei gadget utilissimi da acquistare assolutamente su Amazon. Se siete interessati comunque trovate tutti i link qui sotto in descrizione. E mi raccomando lasciate un commento facendomi sapere qual è stato il vostro gadget preferito. Non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace così se vedo che vi interessa magari porterò dei video simili a questo. Sempre in descrizione troverete i link per seguirmi nei vari social network. Troverete il link per seguirmi su Sconti Go Go dove pubblico ogni giorno offerte interessanti di Amazon. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!